La prima cosa che facciamo è analizzare la domanda di cui sono informativi. La prima cosa che facciamo è analizzare la domanda di cui sono informativi. La prima cosa che facciamo è analizzare la domanda di cui sono informativi. La prima cosa che facciamo è analizzare la domanda di cui sono informativi. La prima cosa che facciamo è analizzare la domanda di cui sono informativi. La prima cosa che facciamo è analizzare la domanda di cui sono informativi. La prima cosa che facciamo è analizzare la domanda di cui sono informativi. La prima cosa che facciamo è analizzare la domanda di cui sono informativi. La prima cosa che facciamo è analizzare la domanda di cui sono informativi.